Finalmente dopo 13 anni si realizza il mio sogno, perché era un'impresa impossibile abitare qui e quindi fare un altro inverno con la struttura del genere così era un'impresa impossibile. Un sogno per alcuni, una chimera per altri, quelli che sono abusivi. E' iniziata questa mattina a Napoli la consegna degli alloggi dei nuovi insediamenti di Via Labriola, Via Gobetti e Piazza della Socialità nel quartiere di Scampia. Dalle 9 sono iniziate le operazioni dei nuclei familiari delle vele, che a ritmo di 6-7 famiglie al giorno vedranno il trasferimento dei nuovi alloggi secondo un calendario di 19 giorni, che prevede l'assegnazione dei primi 115 appartamenti. Sul posto l'assessore Panini, assessore alle politiche per la casa, che è stato presente in Via Labriola e ha coordinato l'iniziativa. Stiamo aspettando che terminano le domande per la partecipazione del bando del governo, ci sia la scadenza, dopodiché contiamo di essere fra quelli che superano quella scadenza, verso primavera dovremmo avere le risorse del governo, dopodiché procediamo immediatamente all'abbattimento. 2017 la vela verde va giù. Questo quartiere cambi volto, dopo 15 anni abbiamo nuove case, e quindi un fatto storico che per quanto mi riguarda mi riempie di emozione, ci riempie di emozione come amministrazione. Cominciamo con le demolizioni e non ci fermiamo più.